Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, ecco gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana, traffico che in verità scorre regolare su tutta la rete autostradale toscana in Fipilì, da segnalare quindi solamente alcuni cantieri. Partiamo dalla 1 fino alle ore 6 del 20 novembre, chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. In Fipilì questa notte in orario 22.06 per lavori alla pavimentazione rimarrà chiusa la carreggiata tra gli svincoli di Lastra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. Sul raccordo Bettolle-Perugia ha chiuso lo svincolo di Cortone in ingresso e in uscita verso Perugia. Chiudiamo con i cantieri della città di Firenze da domani 19 novembre a venerdì 20 novembre per il ripristino di un chiusino fognario via dei Benci rimarrà chiusa da via Mozza a Lungarno delle Grazie. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!